Ciao, siamo sempre a Milano Golosa con Monino Ferrara e il nostro amico Alessandro. Allora, Alessandro con gli insumi, il suo ferrara, sono facendo un progetto veramente eccezionale, cioè recuperano tutti i grani storici siciliani. Sì, abbiamo iniziato un recupero dei nostri grani antichi siciliani, anche perché abbiamo più di 50 varietà e il nostro progetto parla del recupero anche dei vecchi saperi per fare la pasta, di conseguenza abbiamo bisogno dei vecchi grani. Stiamo facendo un prodotto di eccellenza con la lenta essiccazione, con le basse temperature, ma soprattutto un prodotto artigianale, quindi un prodotto locale e una valorizzazione del nostro prodotto. Cioè, loro hanno un campo sperimentale dove seminano i grani appunto ormai quasi in via distinzione, possiamo dire. Sì, sì, assolutamente sì. Li rimettono in produzione e fanno tutta la filiera, vedete, basta, cose di... Sì, li riproduciamo. E ci tengo a dirlo, non lo dice lui, lo dico io, la prima donna, c'è tutto un progetto che nasce dalla loro sensibilità, perché né le università né la regione né, cioè capisce che questo è un progetto che fa rinascere non solo l'economia ma la nostra terra. Quindi io non potevo non fare questo progetto, scusatemi, ma sono sempre io. E quindi veramente doppio applauso, è un progetto veramente unico. Siamo qui a Milano, Milano manda Sicilia, l'Italia, capito che la Sicilia può darne a mandare, altro che mangiare gli insettucci che si vedevano all'esco. E vi faccio vedere velocemente il loro stand, complimenti, bocca al lupo, veramente grandi. Ecco, questi sono i siciliani, ragazzi. Grazie alla gente che crede in noi e nel nostro progetto. Allora, guardate un po' qua, ragazzi, abbiamo gli anellini, cioè di tummini, con la farina fatta dal grano di tumminina. Macinata a pietra. Macinata a pietra, perché giustamente... Sì, anche perché abbiamo anche un mulino a pietra, con macina naturale. Cioè, tra l'altro, tutto ciò, ad esempio, per chi è intollerante al grano che si va a comprare quei prodotti del cavolo al supermercato che vengono dalla Germania, dal sapore discutibile, il grano di tumminina, il grano siciliano, altamente digeribile e ti puoi fare pure la pasta a forno a Milano che se sei intollerante al grano, per dire, parliamone. E tante altre robe, vedete, spettacolari. Allora, le parleremo di più nel nostro articolo. Io, veramente, ci daremo a farvelo vedere proprio vivo il nostro amico. Grazie mille e bocca al lupo. Grazie a voi. E viva la Sicilia. Viva la Sicilia e vive il lupo.